Se l'Italia è, nel Mediterraneo, frontiera d'Europa, alla europeizzazione del salvataggio di vite umane, in mare, nel mar Mediterraneo, che ha visto il nostro Paese ricordare ad altri, attraverso l'esempio, quali fossero i principi e i valori che costituiscono le stesse fondamenta della civiltà d'Europa, deve corrispondere a quell'europeizzazione del salvataggio lo stesso atteggiamento nell'accoglienza di chi ha diritto, nei rimpatri, nella disposizione di canali legali di immigrazione. Si tratta di elementi tutti essenziali che devono essere inseriti in un quadro comune a livello continentale. È una discussione collegiale, seria e responsabile quella che chiediamo, senza spazio per battute estemporane al limite della facezia, che non si addicono al dialogo e al confronto internazionali.